Buongiorno a tutti, ciao da Emanuela, buon lunedì, perché oggi è lunedì e nonostante sia lunedì molto piovoso, noi non ci facciamo scoraggiare perché oggi vi vorrei parlare di un'offerta particolare che sta facendo la Faberlic a tutti i nuovi iscritti, quindi se vi volete iscrivere sul sito della Faberlic sappiate che per tutto il mese di gennaio è attiva questa super promozione che ora vi andrò a spiegare, dunque la Faberlic ha deciso di regalare a tutti i nuovi iscritti appunto 30 euro, 30 euro da poter spendere sul sito per effettuare i vostri acquisti, in più la Faberlic vi mette a disposizione il 20% di sconto che avrete sempre, quindi ragazzi questa è un'offerta che secondo me non dovreste proprio farvi scappare, scusate io ho i cani che fanno avanti e indietro nel frattempo, quindi se fate un acquisto ad esempio di 60 euro lo andrete a pagare solamente 20 euro circa, incluse le spese di spedizione perché vi verrà applicata l'offerta di 30 euro iniziale più il 20%, quindi non solo ma una volta che vi siete registrati e siete all'interno del sito faberlic.com avrete a disposizione ulteriori offerte e promozioni a cui potete partecipare, per la registrazione basterà cliccare sul link che io vi metterò qui in basso e sarà una cosa veramente molto semplice, comunque se avete qualche problema, qualche dubbio, volete chiedermi qualcosa scrivetemi in privato e io vi aiuterò a registrarvi. Per ora è tutto, io vi auguro un buon lunedì e una fantastica settimana, ci risentiamo presto, mi raccomando approfittate dell'offerta, ciao!